Dal libro del profeta Malachia Così dice il Signore Dio Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate Ecco, io, dice il Signore degli Efectivi Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva della bandaglia Chiederà per fondere e purificare Purificherà i figli di Levi Li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia Allora, l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi come negli anni lontani Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore perché converte il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri così che io venendo non colpisca il paese con l'offerminio parola di Dio Rileggiamo questa pericota che ci viene proposta del profeta Marachia il Signore ce la propone questa sera e ci dice che egli manda un messaggero il mese a noi il messaggero Giovanni è chiunque annuncia il Signore o prepara la via del Signore tutti dobbiamo essere messaggeri messaggeri che annunciano la venuta del Signore il Signore viene nel fuoco di Elia Giovanni prepara la venuta del Signore questa sera dobbiamo preparare la venuta del Signore l'angelo di Yahweh che poi è il verbo di Dio e Yahweh in missione Dio che manda viene in mese a noi per salvare per fare di noi un ostia pura e santa un sacrificio gradito a Dio per fare di noi una unità convertire il cuore dei padri verso i figli e i figli e il cuore dei figli verso i padri perché il Signore ha bisogno di un'oblazione che è pura come i tempi antichi e per questo il Signore vuole purificarci siamo in purificazione la nostra comodità è in purificazione questo ci fa piacere perché è il Signore che purifica siamo nelle mani del Signore e gli ci lava con la liscivia delle lavandai e gli ci metta nel foggiolo con il fuoco del fonditore non dobbiamo nemmeno meravigliarci e neanche doverci che il Signore ci lava e il Signore ci affini mediante il suo spirito che acqua sotto un certo aspetto sotto un altro aspetto il fuoco Gesù l'angelo di Yahweh ci lava con l'acqua ci brucia con il fuoco l'acqua dello spirito il fuoco dello spirito lasciamoci purificare come persone e come gruppo perché dice la scrittura che un terzo sarà salvato però passerà per il fuoco passerà per le mani di colui che politica però questo resto di Israele diventerà il suo popolo che offre al Signore l'oblazione monda pura quelle che gli desidera quelle dei tempi antichi chiediamo al Signore di lasciarci purificare cioè di lasciarci lavare dall'acqua dello spirito di lasciarci fondere dal fuoco dal fuoco dello spirito in modo che le nostre infermità spirituali siano portate fuori lontano in modo che le nostre scorie vengono vengono ad essere scorticate da noi e il metallo bello nobile possa apparire in tutta la sua lucentezza ecco il Signore viene questa sera è un momento di purificazione un momento in cui passiamo sotto le mani dell'angelo di avere sotto le mani di Gesù che mediante l'acqua del suo spirito ci rara mediante il fuoco del suo amore ci purifica domani è Natale domani è Giorno di festa Giorno di gioia domani noi offriremo e nonostia pura santa e immacolata come nei tempi antici e questa oblazione sarà accetta al Signore chi sarà il mondo del Signore che ha mani pure cuore innocente ed è per questo che l'angelo di Yahweh questa sera vuole purificarci fratelli e sorelle ecco la mia voce ecco la mia parola lasciamoci lavare dal Signore lasciamoci fondere dal Signore il Signore sa quello che fa il nostro gruppo e il gruppo del Signore non l'ha fondata nessuno nello spirito santo che ha radonato questo gruppo perché perché riabiti il Signore il Signore abiterà in mezzo a noi un popolo uno un povero ossia il popolo che gli ama Amen e adesso e adesso miriamo il capo alziamo lo sguardo in alto e vicina la nostra salvezza il Salvatore viene ecco il Salmo del Puntorial Salvatore viene Salvatore viene Salvatore viene con lei la sua misericordia che si rallegravano con lei all'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria Zaccaria domandavano concedi a suo padre come voleva che si chiamasse Giovanni e gli chiede e gli chiede una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome e gli chiede una tavoletta la sua misericordia la sua misericordia la sua misericordia si discorreva di tutte queste cose coloro coloro che le univano le servavano le servavano in cuor loro che sarà mai questo bambino si dicevano che davvero la mano del Signore che stava con lui parola del Signore parola del Signore parola del Signore pochi altri minuti per riflettere sulla parola del Vangelo Giovanni proprio nella vigilia del Natale la liturgia si presenta la figura di Giovanni il precursore quando nasce ci sono due madri la madre naturale e la madre spirituale Elisabetta madre naturale Maria madre spirituale il primo figlio spirituale di Maria porta tutta la carica della madre non tanto di quella naturale quanta di quella spirituale perché è santificato nel rembo materno ed è Gesù attraverso sua madre che lo porta in rembo che santifica Giovanni Giovanni e imprime in Giovanni i suoi sentimenti trasformi in Giovanni i suoi sentimenti perché è il primo figlio spirituale che nasce lui che deve annunciare la venute del figlio che sa porti in rembo Gesù io vorrei sostare un momento sull'emozione di Maria quando vive Giovanni il bambino il Vangelo tace si parla di Zaccaria di Elisabetta ma certamente essendo Maria lì presente io voglio pensare all'emozione di Maria che sapeva tutto e che sentiva per Giovanni per il figlio di Elisabetta un particolare trasporto perché c'era un legame misterioso tra lui Gesù che portava in rembo e Giovanni che nasceva il fuoco dello spirito dovette abbampare il cuore di Maria questo è il primo momento che prevedeva l'altro momento il momento il momento più bello penso quello di Maria quando viene Gesù nella nascita Maria certamente sapeva che quel figlio che dava la luce era Dio era l'Emmanuel il Dio con noi la curiosità di Maria ma non è curiosità nostra è una curiosità divina che voleva vedere quale volta a essere Dio una volta che si vestiva di carne umana e appariva e appariva col volto dell'uomo quale non fu l'emozione di Maria quando guardando Gesù suo figlio scoprì Gesù il suo volto tra salì Maria quel bambino Dio aveva il suo volto il volto di Maria Dio aveva preso il volto di Maria il volto suo Dio Dio compariva come lei lei si sentì come se fosse Dio divinizata nel volto del figlio il volto del bambino e nel volto suo perché non c'era mescolanza era tutto carne sua fatta dallo spirito nella forza dello spirito quale un momento bello di profondissima emozione che noi non possiamo neanche immaginare quale trasalimento quando Maria volendo sapere qual è il volto di Dio una volta che ti faceva carne si accosse che aveva preso il suo volto è interessante perché Gesù prendi il volto nostro prendi il volto dell'uomo prendi il volto di ciascuno di noi Maria penetrò in quel volto e fu la prima a vedere il suo volto in Dio quel bambino era Dio e lei era in quel bambino Dio guardava con gli occhi suoi rideva con gli occhi suoi e era Dio che guardava con gli occhi di Maria sorrideva con le labbra di Maria Maria trattavendo di gioia si buttò per terra abbracciò il suo Dio prima che il suo Dio e sentì beato quel momento di Maria si trasfonda in noi anche noi prendiamo il volto di Dio perché egli rivive in ciascuno di noi e qui entriamo nel mistero del Natale è il Natale di Dio in ciascuno di noi noi prendiamo il volto di Dio Dio prende il volto nostro e il cristianesimo fratelli e sorelle è questo il cristianesimo non è una religione e neanche semplicemente una fede ma il cristianesimo quello che noi siamo chiamati a vivere è un fatto non è una religione non è tanto una fede quanto un fatto e quale fatto il cristianesimo che Dio si è fatto uomo che è venuto dal cielo sulla terra e si è fatto un uomo l'eterno è entrata nel tempo colui che i cieli e tutto il cosmo non possono contenere si è fatto abitante di questo spazio terreno questo è l'evento questo è il fatto che noi vediamo non non è tanto una religione l'essere cristiano non è tanto una fede religiosa l'essere cristiano ma l'essere cristiano è un fatto avvenuto ma che ci coinvolge tutti perché tutti noi siamo nati nuovi in lui creature nuove questo è il fatto che ci coinvolge siamo nati Dio in formazione in colui che è venuto dal grembo del padre e si è fatto uomo perché noi diventiamo Dio ed essere cristiani e vivere questo fatto se noi viviamo questo fatto sì che siamo cristiani ma se non viviamo questo fatto essere cristiani può essere una religione l'uno come l'altra può essere una fede soltanto fede l'una come l'altra ma l'essere cristiani è questo fatto che Dio si è fatto uomo come me come te che Dio è nato in me e in te e tu in lui sei diventato potenzialmente Dio per cui la tua patria non è più la terra ma la patria il cielo la tua stirpe non è stirpe umana soltanto ma è diventa stirpe divina e tutti non siamo divisi tra di noi ma siamo uno in lui siamo unità in lui siamo fratelli gli uni degli altri figli dell'unico padre vivere questo essere cristiani vivere questo cristianesimo e vivere il natale del signore oggi il natale per tanti è un natale di festa è un natale pagano ma per noi cristiani rinnovati rinnovati nello spirito è un natale vero soltanto se viviamo questo fatto e siamo coinvolti in questo fatto soltanto se il natale di cristo è il natale nostro il natale al cielo il natale alla vita divina per cui muta la nostra sorte Dio si è fatto carne si è fatto carne e come dice un padre della chiesa caro ha tu sesto utilizza carne distruere cioè la carne Dio si è fatto carne per distruggere i vicini dalla carne cioè per distruggere e redimere il male della carne umana Dio si è fatto carne per cui il natale è la carne di Gesù carne nostra ratta da Maria che noi celebriamo la carne divina divinizata e in lui la nostra carne il nostro corpo viene divinizato la divinità come dice la scrittura abita corporalmente corporalmente in Cristo Gesù per cui Dio prende un corpo umano diventa carne umana la carne nostra diventa così la carne di Dio perché tutti noi formiamo l'umanità di Cristo e Cristo rivive in ciascuno di noi e noi riviviamo in lui questo è vivere la fede cristiana la vita cristiana il mistero cristiano non è una morale il cristianesimo e neanche una dottrina e neanche una religione neanche una semplice fede ma è un fatto come si diceva un fatto e questo fatto si chiama Cristo Dio umanato verbo fatto carne è un fatto di carne chiediamo al Signore di penetrare questo mistero e di vivere questo mistero o meglio di lasciarci vivere da questo mistero nella luce e nella forza dello Spirito Santo lasciamoci trasformare trasformare perché l'uomo che non si trasforma non è cristiano l'uomo che non rivive in Cristo Gesù non è cristiano non è nato ancora perché la vera nascita che avviene per mezzo del battesimo è la nascita ad essere nuove creature 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 divine me ne diciamo il Signore questa sera basta questa semplice idea questo solo pensiero perché questo pensiero diventa vita in noi diventa vita trasformante deve essere trasformato il nostro pensiero il nostro sentire il nostro essere siamo tanti siamo divisi perché ognuno nasce da sua madre secondo la carne umana ma secondo la carne divina tutti siamo tutti siamo un solo uomo tutti siamo Cristo Gesù ora Cristo non è diviso Cristo è uno dice Giovanni che divide il Cristo e Anathema Cristo è uno se noi non siamo uno e dividiamo il Cristo lo uccidiamo vogliamo che Cristo sia il Cristo vivo siamo unità in Lui unità di amore cade il mondo cade il mondo ma dobbiamo essere unità di amore in Cristo verità di Dio in Cristo verità di Dio accettiamo Cristo e rilasciamo in Lui creature nuove viviamo così il mistero del Santo Natale che questo gruppo questa comunità revive il Santo Natale in questa comunità fa che apriamo gli occhi e rivediamo Signore Gesù ti rivediamo nel volto nei morti fratelli Signore Signore moffaci con voi questo sia il ritornello Signore moffaci con voi qualche preghiera spontanea o Gesù che io vedi il tuo corpo nel bocchio di ogni mio fratello di ogni mia sorella e mi avvicino a lei a me e dica ti riconosco ti riconosco oh Gesù ti rivedo Gesù ti accetto Gesù che vivi nel fratello nella sorella e le tornele mostrami Signori ti riconosco Signore fa che non disprezzi nessuno perché sei tu Signore fa che nel povero che bussa la porta nella vecchiarella che chiede l'emosina nella sciancata si chiede una preghiera nel depresso si grida io vedo il tuo morto e sento il tuo rido Signore mi rilumini le mie occe perché io veda io sono cieco Signore da anni l'ha visto Signore e mosso il tuo volto Signore nel fratello che è arrabbiato nella sorella che è sconvolta e grida a me perché non ha avuto l'amore perché non è stato guardato con l'amore io senti il tuo grido io sento la tua angoscia ed io riveli il tuo morto per questo Signore io ti prego mostrami il tuo morto Signore Signore che io ti vedo nel bambino che gioca nel bambino che è il suo braccio nella mamma è più facile Signore vederti ma che io ti vedo nell'uomo peccatore una donna peccatrice che io ti vedo Signore che io vedi il tuo morto che io mangi con l'uomo peccatore con la donna adulta che io mi ci raccanto a lei che cerchi il tuo morto nella prostituta che io cerchi il tuo morto in qualunque uomo cattivo che mi grida mi sorghigna che io cerchi il tuo morto perché a furia di cercarlo nella luce della fede lo troverò e tu mi guarderai dall'occo dalla prostituta dal morto del peccatore dal morto del fratello adirato dal morto di quelli che mi odia e in vado e soviglie Signore a che io scopo il tuo sguardo in tutte queste persone e in mostro anche in queste persone che io scopo il tuo morto Signore ma la vostra madre ha visto una parola e l'angelo risposto con un'altra parola Nulla è impossibile mio Dio non è impossibile non è impossibile non è impossibile a te il Signore e noi speriamo tutto Signore perché tutto è possibile a te non c'è nessuna cosa impossibile a te fa che noi non disperiamo mai fa che noi non ci svegliamo mai perché tu non ti arrendi mai tutto è possibile a te ed è su questa parola che noi fondiamo la nostra sicurezza la nostra gioia del domani tutto è possibile a te perché tutto tu puoi tutto tu puoi oh Signore ci affidiamo a te questa sera e ti diciamo Signore cambia la nostra vita Signore trasformaci tutto è possibile a Dio tutto è possibile a te quello che è impossibile a noi è possibile a te ed è in testa fede che noi ci alziamo e ancora una volta proseguiamo nel Santo sacrificio come si trasforma il pane nel tuo corpo il vino nel tuo sangue così qualunque male si può trasformare in bene qualunque cosa è negativa si può trasformare in un bene meraviglioso